riparte dalla cronaca nera per il tam tam sui temi di un tempo ma stride con la totale sintonia con draghi in fondo a destra e sotto i bacioni purtroppo c'è la cronaca nera l'investimento sul governo e in prospettiva sul prossimo inquilino del quirinale non bastano salvini scommette sul futuro ma si ritrova in un presente amaro superato per la prima volta in un sondaggio dalla destra di opposizione di giorgia meloni ma anche dal pd sinistra sociale diletta doppio sorpasso e doppio smacco a cui porre rimedio e da qualche parte tocca ripartire dal lato politico con la manifestazione del 19 giugno a roma dove i poster ospiteranno la sua faccia su sfondo tricolore ma nessun simbolo di partito l'acceleratore sulla federazione di centrodestra dal lato propagandistico invece ecco il ritorno in grande spolvero degli istinti da vellicare soprattutto ora che l'estate scalda gli animi il primo colpo senza silenziatore l'ha battuto sulla brutta storia di una donna 90 n violentata nel comasco da un senzatetto di origini nigeriane servono porti chiusi espulsioni certezza della pena che dice il viminale gli ha fatto ecco nicola molteni che all'interno è sottosegretario una barbarie violenza feroce inaccettabile ora venga fatta giustizia l'immigrazione clandestina va bloccata alla partenza perché genera insicurezza criminalità e violenza la cronaca nera è stata un bacino inesauribile per il salvinismo d'antan prima della conversione sulla via di draghi la sparatoria di macerata l'omicidio di desiree a roma lo stupro sulla spiaggia di rimini manette gattabuia castrazione chimica e non blocco androgenico marciscano in galera strumenti collaudati di quel lessico tranne quando i presunti violentatori sono carabinieri come nel caso delle due studentesse americane di firenze lì albergano i dubbi e la faccenda diventa molto 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 strana grazie 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 grazie